Che cosa hai messo al centro della tua vita? Ognuno di noi mette al centro della propria esistenza qualcosa di diverso. E questo qualcosa determina le azioni e le non azioni. Stabilisce i confini, le possibilità, le relazioni, la felicità, l'infelicità, le paure, i rimorsi, i traguardi raggiunti. Tu, al centro della tua esistenza, cosa hai messo? O chi hai messo? In questa piccola riflessione voglio aiutarti a definire questa situazione, a renderti conto. E poi eventualmente a liberare quel centro e a riposizionare in esso qualcosa per te più importante. Hai messo un genitore al centro? Un obiettivo professionale? Un amico? Una paura? Hai messo al centro le aspettative di qualcuno che ami? Hai messo al centro un senso di rivalza, di dover dimostrare qualcosa ai tuoi cari, a tuo padre magari? Oppure al centro hai messo il piacere, il divertimento, la superficialità, l'edonismo? Oppure al centro hai messo Dio? Alcuni potrebbero aver messo al centro l'arte, il talento, la creatività, un figlio, un desiderio. Ok, c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata? C'è qualcosa che al centro produce meglio e più vantaggi che qualcos'altro? E a questa domanda puoi rispondere soltanto tu. Sicuramente al centro c'è qualcosa ed è importante che tu sappia cosa c'è al tuo centro. Qual è l'elemento, il motore che determina con la sua vibrazione il resto delle cose che accadono nella tua esistenza e determina anche quelle che non accadono. Quindi la presa di consapevolezza di quello che esiste, che agisce dal tuo centro è fondamentale. Poniti questa domanda uno, due, tre giorni di seguito e se non ti basta continua a portela fino a quando non ti sarà chiaro. Potresti avere più di una cosa al centro o almeno pensare che più di una di queste cose sia al tuo centro. Poi magari ti potresti accorgere che in realtà una è veramente nel nucleo e l'altra è un po' più spostata, un po' più in periferia. Comunque sia, non è importante una cosa piuttosto che un'altra. Non devi fare nulla se non prendere atto di che cosa c'è al tuo centro. E quali sono le conseguenze di questa cosa al tuo centro? Quali sono le possibilità, i vantaggi? I benefici e i costi. Una volta che questa consapevolezza parterrà al tuo essere potrai fare la tua scelta. Confermare questa cosa oppure sostituirla. Buona vita, buon tutto, buon destino da Rosario Alfano.